In questo video vi mostrerò come sostituire una cartuccia toner su una develop in EO454 Plus. Apriamo il spettello frontale superiore, ruotiamo la freccetta collocata sulla cartuccia verso sinistra e la fremmo verso sinistra. Ci esteniamo la vecchia cartuccia nell'apposito contenitore e inseriamo la nuova cartuccia rispettando la guida. Giriamo la levetta nel senso opposto e richiudiamo il pannello frontale.